E' cominciato dalle aree industriali di Balvano il sopralluogo dell'assessore regionale alle attività produttive Marcello Pittella nelle aree industriali del territorio. Pittella, che ha assunto la guida dell'assessorato poco più di un mese fa, si è già messo all'opera per conoscere le realtà produttive del territorio, capirne i punti di forza e le criticità per avviare percorsi di crescita. E' un necessario audit che un neo-assessore deve necessariamente svolgere prendendo contetta diretta della carne e del sangue di questa nostra regione, per conoscerne le dimensioni, la portata, la qualità, le criticità, per comprendere e raccogliere stimoli. E' anche un'occasione per trasferire tutte le azioni che il nostro dipartimento, che è la presenza dell'aggiunta regionale, sta mettendo in campo. L'assessore ha incontrato un dirigente dello stabilimento Ferrero e il direttore della Farmaso, l'azienda che produce soluzioni per dialisi. Ad accompagnarlo nel suo sopralluogo c'era il sindaco di Balvano, Costantino Di Carlo. Ci sono aziende e imprenditori che vogliono venire ad investire e capannoni formalmente occupati e nella pratica vuota. Per questo abbiamo oggi voluto invitare l'assessore per rendersi conto e considerare queste cose nella programmazione e negli atti che consumere in regione.